Ciao a tutti, sono Angelo Marcolin, fondatore di IM Competitor Academy, nonché owner e coach di CrossFit Treviso, CrossFit Iesolo e CrossFit San Donà. Oggi sono qui appunto per spiegarvi un pochino come funziona il nostro programma di allenamento e le nostre programmazioni. Il nostro sistema di lavoro consiste nella programmazione personalizzata per i vari competitors e appunto di vari livelli e ovviamente di seguito anche la programmazione per i box in quanto è una cosa che dovrebbe portare via molto tempo ad ogni coach e noi pensiamo a loro in base anche a quello che è il livello dei loro atleti e anche in base a quello che è l'attrezzatura che loro hanno a disposizione. Lavoriamo su tutto il territorio nazionale e anche internazionale per quanto riguarda i competitors e la loro preparazione atletica. Nel nostro programma appunto noi differenziamo l'allenamento in base alla persona che abbiamo davanti e in base alla sua preparazione quindi non è detto che un atleta che viene da noi deve esclusivamente fare le gare ma può essere un atleta che appena iniziata vuole solamente migliorare la sua preparazione atletica. Noi appunto personalizziamo dalla A alla Z sia per quanto riguarda un discorso di lavoro di forza un lavoro di miglioramento delle proprie skills e tutto quello che riguarda appunto una preparazione atletica a 360 gradi in base anche a quello che è il nostro seguito di coach che hanno per ogni specialità i nostri atleti a disposizione. Quando un atleta ha deciso di venire da noi innanzitutto ci vuole appunto un incontro conoscitivo dove facciamo una chiacchierata e la cosa principale su cui noi puntiamo molto è fare un'analisi della persona è un'analisi sia per quanto riguarda il suo lavoro precedente e sia per quanto riguarda anche la sua preparazione atletica. Gli viene effettuata una bioimprendizometria dove appunto viene rilevata la sua composizione corporea la sua massa magra, la sua acqua, il suo metabolismo basale, la sua massa magra e solo da lì possiamo valutare appunto di fare anche una consulenza alimentare con i nostri esperti dopodiché aggiungerci un programma specialistico per quanto riguarda la sua persona. Ovviamente non è che dall'oggi al domani si vedono i risultati, c'è un programma e quindi c'è un minimo di periodo che è un periodo di assestamento della persona perché ovviamente uno che magari è già abituato a allenarsi in un certo modo deve entrare e quindi rodare quello che è il nuovo sistema di allenamento che comunque quello che noi puntiamo tanto è non stravolgere la vita della persona perché altrimenti si rischia di fare l'effetto opposto che questo si stanchi dopodiché molli tutto dall'oggi al domani. Noi cerchiamo di migliorare quelle che sono appunto le sue capacità e farlo entrare su una strada, una nuova strada che è appunto per migliorare appunto la sua preparazione atletica e anche il suo stile di vita alimentare. Ogni atleta ovviamente ha appunto delle weakness e quindi noi anche sulla base di quelle possiamo decidere di appoggiarci a uno dei nostri coach di specialità può essere per la ginastica, può essere per il weightlifting, può essere per il powerlifting in modo che lui abbia a disposizione in fronte questa persona che lo aiuti a migliorare appunto quelle che sono le sue pecche e che queste magari diventino i suoi punti forti in futuro. Appunto con i vari nostri coach noi organizziamo su tutto il territorio dei workshop di specialità vengono svolti anche dei workshop dove c'è in giornata una specialità e il giorno dopo un altro sulla base appunto di quella che è la richiesta del box quindi viene fatto un abito su misura in base appunto alle esigenze e alle richieste che ha l'owner del box, i suoi coach ma soprattutto i suoi atleti che sono i primi che devono mettersi in griglia a gareggiare. Per qualsiasi comunque informazione, contatto eccetera potete trovarci nella nostra pagina Facebook AM Competitor Academy dove avrete tutti quanti i nostri dati, ricambi telefonici se non che potete fare qualsiasi tipo di domanda.